Le classi seconde E ed F, terze B e C del corso turismo dell'Istituto Aterno Mantone, protagoniste del workshop Abruzzo Network Tourism presso la sala Camplone della Camera di Commercio di Pescara. Si tratta di un progetto che lo stesso Istituto di Pescara ha realizzato con Parallelo 42 e nasce come stage formativo pluriennale costruito su un progetto di sviluppo del territorio. Gli argomenti principali sono il territorio come natura, il territorio come storia, architettura e promozione proprio della cultura e il territorio come aziende che producono e raccontano la nostra terra e il territorio come formazione. L'ipotesi di fondo sta nel leggere il territorio come un sistema organico dove tutti gli elementi sono fortemente interdipendenti e la sua virtuosità è espressa dalla capacità di metterle a valore tutti contestualmente e reciprocamente. A conclusione di questo primo ciclo di incontri è stato programmato un workshop, momento di confronto con diversi attori territoriali, regionali e nazionali. Non a caso abbiamo degli attori in sala che raccontano l'Abruzzo e degli attori in videoconferenza che invece raccontano il resto dell'Italia, anche per vedere quali sono metodologie diverse, approcci diversi e risultati diversi, con l'idea che attraverso il confronto si può crescere tutti.